stasera faccio tipo un panino kebab kebab o kebab lo tagliamo così lo capiamo vuoi dire che è bello poi ci mettiamo l'andicchia di pollo pollo a foglio con la maionese e ce la mettiamo qua dentro maionese e pollo tagliate che bellezza questa è un maionese e pollo una cosa con la maionese e pollo ragazzi poi ci mettiamo un'andicchia di iceberg insalata iceberg come si chiama? iceberg poi ci mettiamo un goccio di olio extravergine di olivia che è buono e un'andicchia di sale poco sale per chiacchiare vuole caipare con il sale peggio una, due, tre su kebab a me buona cena a tutti una, due un'andicchia di sale peggio e un'andicchia di sale peggio un goccio di olio extravergine di olivia e poi stasera la serata è fatta ragazzi alla prossima com'è com'è? una, due, tre alle 123 grazie 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 Grazie.